Da voci che circolano in questi giorni, si dice che il Sindaco di Albino e il Segretario Comunale siano stati condannati dal Giudice del Lavoro per irregolarità di televideo all'interno del Comando di Polizia Municipale. Signor Sindaco, cosa risponde al vero su questa voce? Innanzitutto non le chiamerei voci ma le chiamerei diffamazioni, perché dire che siamo stati condannati, quando in realtà la condanna non c'è, è davvero, secondo me, parlare di diffamazione. È vero che abbiamo un problema, si è posto in questi termini, è stata realizzata la struttura nuova per la Polizia Municipale, è stata inaugurata dal precedente Sindaco, all'interno di questa struttura c'erano delle camere legittime, secondo me, nel senso che comunque è importante che una struttura di questo tipo sia controllata, è stata avviata un'avvertenza informale da parte dei sindacati perché andava trovato l'accordo con loro per l'installazione. Il nostro segretario comunale aveva scritto dicendo di trovare un accordo per la formalizzazione e la regolamentazione di queste telecamere e siamo convocati in tribunale per il 17 dove dovremmo trovare e formalizzare questo accordo, questa disponibilità di accordo. Resta per noi un elemento importante e una volontà, probabilmente la procedura è stata gestita male già all'origine perché noi le abbiamo trovate installate e abbiamo dato questo segnale di disponibilità al sindacato, resta però anche la nostra volontà di avere comunque la possibilità di controllare un ufficio così importante, vista la presenza di armi e roba del genere. Siamo assolutamente disponibili però ovviamente a trovare un accordo con il sindacato con il quale io non ho nessuna intenzione di scontrarmi ma di trovare un accordo per regolamentare l'utilizzo di queste telecamere in accordo con loro. Ecco ma di fatto questa avvertenza in che cosa consiste? Consiste nel fatto che il sindacato ha posto la questione che per l'installazione di questo tipo di telecamere avremmo dovuto avere la loro autorizzazione e questo probabilmente corrisponde parzialmente anche al vero. Per cui noi le abbiamo trovate lì, erano già funzionanti però credo che la nostra disponibilità per trovare il modo di regolamentarle l'avevamo data prima e continuiamo a manifestarla adesso. Restano uno strumento che per noi sarebbe importante mantenere in quella collocazione. Quindi ripeto abbiamo l'incontro in tribunale il 17, siamo stati portati lì perché non siamo riusciti a trovare l'accordo in un'altra sede ma restiamo assolutamente disponibili per trovare l'accordo partendo dal presupposto che ci piace e vorremmo controllare questo spazio.